abbiamo ora l'esercizio numero 51 che sta a pagina 31 del libro è simile a tutti quelli che abbiamo fatto finora anche in questo caso infatti conosciamo il calore che viene fornito a 100 kg di sabbia quindi conosciamo anche la massa in kg notiamo che come al solito il calore ha il k di chilo quindi dobbiamo aggiungere i tre zeri conosciamo la temperatura iniziale ma non conosciamo la temperatura raggiunta cioè in pratica noi il delta t la variazione di temperatura non la conosciamo e dobbiamo trovarci trovarci esattamente come abbiamo fatto nell'esercizio il numero 8 cioè nel b a pagina 25 quindi è in pratica si tratta dello stesso problema il calore specifico della sabbia ci viene dato dalla tabella 1 ed è 800 joule al chilo e al grado quindi risolviamo il problema in modo molto lineare prendiamo il calore di 3600 migliaia di joule ci dobbiamo aggiungere i tre zeri che derivano da questo k non ce li dimentichiamo e dividiamo per le altre due fattori del calore che conosciamo cioè il calore specifico di 800 joule al chilo e al grado e per la massa che uniforme con queste unità di misura perché sono chilogrammi e anche la massa è di 100 chilogrammi il risultato di questa divisione è di viene fuori 3600 diviso 80 se andiamo a levare tutti gli zeri quindi se fossero se il risultato fosse 40 gradi avremmo 8 per 4 32 quindi tra 3200 e 3 se fossero invece 50 gradi 5 per 8 40 quindi la una via di mezzo sono 3600 infatti cioè tra 32 e 40 quindi devono essere 45 gradi 45 gradi centigrari che costituiscono il nostro delta t cioè l'aumento di temperatura infatti il calore è stato dato alla sabbia e perciò questo deve essere un incremento un aumento di temperatura la temperatura finale la temperatura raggiunta sarà uguale diciamo t2 sarà uguale a quella iniziale di 25 gradi più quella più l'aumento di 45 gradi e quindi sarà uguale a 70 gradi centigrari o celsius e quindi Grazie.